Eccola, la maglia che celebra i 115 anni di storia della lucchese, bianca e rossa, seguendo i colori del comune di Lucca, pantaloncino bianco e calzettoni a strisce rigorosamente bianco-rossi. Presentato anche il logo, curato da Fabio Bartoli, che compare sulle maniche e sui numeri delle maglie, ma anche sul resto della muta che Benassi e compagni indosseranno domenica e che cercheranno di onorare nel migliore dei modi, in quella che molti considerano una partita chiave della stagione, la sfida ai nerostellati del casale di Francesco Buglio. A fare gli onori di casa il direttore generale Mario Santoro e con lui l'amministratore delegato Alessandro Vichi, anche perché le radici e la propria storia, in questo caso gloriosa, non vanno mai dimenticate. Per noi è fondamentale riscoprire quei valori che danno senso di appartenenza e quindi di evidenziare la storicità e l'importanza di questa società. E mi ha raffreddato già di fare il centenario, per cui mi sembrava doveroso fare una nuova maglia per i 115 anni della Lucchese, con un nuovo logo che ci accompagnerà poi durante tutto il percorso fino a dicembre. La nuova maglia è stata abbinata idealmente non solo a quella rossonera del centenario, che risale al 2005. Il compleanno vero e proprio sarà celebrato il 25 maggio, quando, come annunciato lo stesso Santoro, sarà presentata la maglia per la stagione 2020-2021. In questo lasso di tempo la società ha avviato anche altre iniziative, tra le quali inviare i giocatori nelle scuole per cementare il senso di appartenenza, la diffusione di quelle pubblicazioni e libri che in questi anni hanno ripercorso la storia della gloriosa Pantera, oltre ai camp estivi. Ci sono dunque tre mesi e mezzo per celebrare degnamente l'evento, che sarà infarcito da tutta una serie di belle iniziative.